Così, io entro nel mio cantabro un bamboletto omaggio e mi trovo il principe, normale, assolutamente, assolutamente normale, i goblin, i giganti royali, ormai io non me ne faccio niente, ne ho troppi, posso richiedere una donazione, chiedo 3 maghi. Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Maxo, oggi siamo qui su Clash Royale, perché raga? Come avete visto dal titolo ci sarà un Super Magical Chest, in Arena 4, purtroppo in Arena 4 non ci posso fare niente, la sfiga vuole che l'ho trovata su questo account che usiamo sia io sia Rollo. Per due partite, non arrivavo in Arena 5, per due partite, ah, vi starete chiedendo, che cazzo, vedete, vedete, vedete che non c'è lo sfondo, che cazzo è combinato, perché non c'è lo sfondo, perché, volete dire cosa c'è lo sfondo? Sì raga, sto facendo i test con il blue screen, allora ho ordinato il green screen, mi arriverà in settimana, giovedì penso, per cui, vedete che si vede un po' male, cioè i capelli non ce li ho, guardate, ah, mi accadezzo all'uno, i capelli non ce li ho, però fa niente. A fa il culo tutti! Cose strane, ma io direi subito di passare con questo spaccheting e aprire un baule omaggio, come primo, anche se siamo già a giugno, però il baule omaggio ci fa sempre comodo. Attenzione, 49 di lemosina, 2 di gemme, 1 scheletrino, proprio sprecato, e 5 barbari. Oggi, perché ci sia simpatia, potenziamo la signora con l'accia, la segaiola. Questo sarà il nome della varchiglia, della segaiola. Potenziamo tutte le carte, potenziamo tutte le carte, soprattutto per portarle su di livello, e per fare esperienza. Ma adesso raga, è giunto... no, prima c'è la cesta d'oro, fa niente se usiamo due gemme, che abbiamo appena guadagnato. Abbiamo appena guadagnato due gemme, che stiamo già sprecando. Non si spregano le gemme. Magia, magia, poco oro. Un cannone, quindi oggi non siamo strafatti. Abbiamo solo un cannone, normale. Abbiamo due spiedini. Due torre bombaroschi. Abbiamo un'orgia di sgherri. Attenzione. Intanto cominciamo a sbloccare una cesta normale. Possiamo aprire la Super Magical Cest, che è in Arena 4. Due partite dopo vinte per tenere la 5, ma il destino vuole in Arena 4. Che contiene, attenzione, contiene... Oggi è domenica, come vedete. Contiene, cosa contiene? Un botto di carte. Fra cui... 12, 12, 12, 12, 12, 12 epiche, 12, ci rendiamo con... Anche se non si trova la leggenda, 12 epiche, mamma mia. Una bella botta. E quindi io, raga, direi subito passare a questo... Apremento di casse, scassamento. E... La Madonna! Il peggioro! Le peggio frecce! Olè, mongolfiera sbloccata! Olè, congelamento sbloccata! Questa è tutta epica, sono. Avevo detto che oggi non eravamo fatti. Oggi siamo strafatti. Dopo, dopo questa carta, mamma mia. Ok, ora... Devono essere tutte epiche. Se saranno tutte epiche, ci sarà la leggendaria. Vediamo, raga. Che sfiga. Ma... Vi pare... Vi pare a voi che quando... Tu hai bisogno di trovare la leggendaria... Ti danno pure il... Ti illuno... Non la trovi! Vediamo cosa ci esce. Non ci siamo assolutamente capiti Clash Royale. Allora... Mi hai già punito. Nella Magical Chest... Mi avevi fatto trovare due Arch-X. Perché me ne fai trovare i 10? Porca puttana! Cosa abbiamo trovato di nuovo? La mongolfiera... Not bad. La congelamento... E 17 miliardi di Arch-X... Che io porto su subito con gli Arch-X. Quindi... Su questo account ci sarà sicuramente... Il... Il... Il Dex Arco-X. Sicuramente... Sicuramente c'era un deck con l'Arco-X. Purtroppo... Purtroppo... Preferivo trovare 12 principi, però... La ruota gira e il primo po' ti piglia in testa. Ma... Ragazzi... Non ci abbattiamo... In questo video... Perché anche se abbiamo trovato la peggio merda... Abbiamo trovato la peggio merda... Abbiamo trovato la peggio merda... Non è che c'è molto da dire... Però io vi invito a lasciare un bel pollice in su... Soprattutto... Ragazzi... Soprattutto per questa... Questa cosa assai misteriosa... Questa cosa assai... Assai... Anche se un po' fatto male... Questo... Blue Screen... Un po' improvvisato... Che non so... Ditemi voi se volete che pubblichi in live in cui l'ho montato... Sicuramente pubblicherò il video del Green Screen che mi sta arrivando... Io direi che ci vediamo in un prossimo video... Un bel pollicione qui... Seguite la pagina di Facebook assolutamente... Dove carico le notizie... Dove... Annuncio i nuovi video... Annuncio pure i live... Su Hitbox... In questi giorni... Attenzione... Si sta svegliando qualcosa lì... Nella Paxarelli Crew... Si sta svegliando qualcosa... Ma io non vi dirò niente... Fino a quando non si aprirà... Ci vediamo in un prossimo video... Bella! Ciao! Devo studiare per la patente... Ma... Lo farò più tardi... Cosa sto vedendo? Attenzione... C'è sto opening... Fa 55 secondi... Tenetevi... Tenetevi i supporti... Attenzione... Che cazzo ho fatto? Mancano solo... 27 secondi... Si sta avvicinando il traguardo... Si sta avvicinando il traguardo... Rossi c'è... Rossi c'è... Eccezionale... Eccezionale... 19 secondi... Dai... Dai che ce la fai... Dai che ce la fai... Siamo tutti in te... Rossi c'è... Rossi c'è... Siamo tutti in te... Eccezionale... Super... Magical... Chest opening... Baul omaggio... Fa un bauletto... Attenzione... Potrebbe essere il mastino lavico... Voglio il mastino lavico... Voglio il mastino lavico... Porca puttana...